Buongiorno, siamo qui con il candidato sindaco di De Monte, Francesca Arata. Volevamo fargli tre domande. Ecco la prima. Perché De Monte e perché ora? Due risposte, grazie. La prima, perché De Monte? Con De Monte è un rapporto che risale negli anni tutta la mia famiglia. I miei nonni sono vissuti a lungo a De Monte, sono anche sepolti a De Monte. Sono sfollati a De Monte in tempo di guerra. Ho avuto una zia che ha insegnato alle scuole medie di De Monte per più di dieci anni. Con mio padre e mia mamma, io e mio fratello, abbiamo trascorso tutte le vacanze, praticamente, da quando eravamo bambini. Io a mia volta, con mia moglie, Anna Maria Paracchini, e quattro figli e ora otto nipoti, veniamo costantemente a De Monte. Per dirvi il legame dei miei figli con De Monte, ti dico una battuta. Una volta a mio figlio in classe han chiesto dove è trascorso le vacanze, risponde mio figlio, a De Monte. E gli chiedono, ma dov'è De Monte? E mio figlio risponde, ma come? Non sai dov'è De Monte? Per dire il legame che anche mio figlio ha avuto con De Monte. Seconda risposta. Mi chiedi ora che cosa voglio fare a De Monte. In realtà la domanda forse più corretta sarebbe perché così in anticipo, nel senso che il mio progetto era già quello di venire a De Monte, stare a De Monte e partecipare alla vita De Monte nei prossimi, direi, due o tre anni. se non che l'ultima crisi di De Monte con una vicenda che a parer mio è una cosa molto molto grave che è stato il commissariamento di un paese come De Monte mi ha determinato ad anticipare i tempi. Di qui la scelta di correre ora per fare il sindaco a De Monte. Immagino che tu mi chieda ma come garantisci una presenza a De Monte pur lavorando ancora come avvocato a Milano? Rispondo in due modi. Primo, comunque io garantirò la presenza a De Monte e verrò settimanalmente a De Monte. Questo è un mio impegno e un impegno anche facilitato dal fatto che Milano con De Monte comunque non è lontano come uno può immaginarsi. Usando il treno, due ore e mezza tu sei a Cuneo e quindi in tre ore sei a De Monte. Ma in ogni caso settimanalmente garantisco la mia presenza per due o tre giorni. Questo è il mio impegno. Secondo, ed è forse l'aspetto più importante accanto a me vi è una squadra una squadra forte, coesa, unita ed entusiasta ed è proprio la squadra che mi ha dato la forza per dire sì, corro ora. Il fatto di lavorare con una squadra io credo che sia un messaggio molto importante di per sé per De Monte in un paese, in una valle dove ahimè prevalgono e hanno prevalso spesso, troppo spesso, le divisioni invece l'idea di una squadra unita e coesa che vive a De Monte io credo e quindi sarà in collegamento costante con me che sia un valore aggiunto per la prossima guida di De Monte. Bene, passiamo alla prossima domanda e la prossima domanda, forse anche quella più importante è un po' anche per sapere quali sono le linee guida e cosa vuole fare per questa cittadina? È chiaro, ti rispondo evidentemente il programma è l'elaborazione è chiaro che dovremmo e del nostro sentiremo le esigenze del paese stiamo già elaborando dei punti fermi di un progetto e comunque il nostro metodo sarà quello di sentire con commissioni che creeremo le esigenze del paese e cercheremo di dare risposte a queste esigenze abbiamo diverse idee e dei progetti taluni realizzabili subito altri evidentemente richiederanno del tempo e in più anche qualche sogno sogno che evidentemente può dare una direzione non è che tu sei in grado già di tradurre il sogno, il progetto è in concreta realizzazione posso però dire una cosa e questa è la linea guida del nostro del mio e dell'intervento della squadra evidentemente parlo come possibile candidato sindaco e come componente partecipa di una squadra abbiamo assistito negli ultimi anni a un fenomeno che è stato quello di un progressivo abbandono delle famiglie da De Monte con trasferimento a Borgo e a Cuneo l'idea è quella invece di rovesciare questo percorso non solo abbiamo intenzione di far sì che le famiglie rimangano a De Monte ma abbiamo anche il progetto ambizioso di far sì che famiglie che si sono trasferite a Borgo e a Cuneo ritornino a considerare di venire a tornare a vivere a De Monte che è un paese dico perché appunto ormai lo conosco che è un paese molto molto bello e in cui è vero che ci sono dei disagi penso ai disagi per gli spostamenti e in particolare per i ragazzi pensando a coppie, a famiglie giovani con ragazzi disagi che cercheremo in tutti i modi di attutire ma nel contempo a fronte dei disagi cercheremo di evidenziare quegli aspetti positivi che in un bilanciamento fanno sì che prevarranno che devono prevalere gli aspetti positivi rispetto al disagio quindi riduzione dei disagi è invece premialità diciamo così nello stare a De Monte questo vale per le coppie per le famiglie per le famiglie con ragazzi evidentemente anche per gli anziani posto che stare a De Monte presenta molti molti aspetti positivi e queste sono le linee guida del nostro programma per De Monte Terminiamo qui le nostre domande e buona giornata a tutti